Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi vi porto a sciare sul diavolezza Naturalmente oggi giornata stupenda, pista bella ghiacciata dura al punto giusto e niente mi vedrete andare giù a 800 km orari con gli sci e soprattutto vedrete i panorami della madonna, sia in panda che con la neve Spero che il video vi piaccia e like Grazie per la visione 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 Grazie per la visione